L'idea di fare un film nasce innanzitutto insieme a Paolo di far fare un film a Raffaele, quindi avevamo voglia di fargli fare un film anche perché purtroppo si tende ogni tanto a dimenticare il passato, la carriera delle persone, quindi ci sembrava giusto farlo sia per un piccolo legame di parentela, perché ha pagato anche dei soldi. Dopodiché ci siamo inventati la storia, io e Federico, sotto indicazione di un'idea di Raffaele, abbiamo sviluppato questo soggetto, questa sceneggiatura particolare, direi cinica, abbastanza cattiva, però allo stesso tempo mi auguro divertente, non so se tutti voi avete visto il film, ma sì, sento dei sì. È stato perino? Sì! Allora, basta! Quindi se non ho capito male, Raffaele ha dato un input preciso. Sì, ha dato un input su un'idea di fondo che poi abbiamo sviluppato insieme a Federico. Allora, adesso io chiederei a tutte le persone che sono qua, un loro pensiero proprio su questa esperienza, non ci sono degli esordienti, ma ci sono persone che hanno una storia cinematografica, che non sono cinematografica, ma Raffaele Piso, come sanno tantissimi di voi, diciamo quelli che hanno superato i 30 anni, appartiene alla storia della società dello spettacolo italiano, per le tante cose importanti che ha fatto in televisione, in cinema, insomma, in teatro e non solo. Cominciamo proprio da Raffaele, direi di sì? Presente! Allora, no, la cosa... Sì, sì, funziona, però un tempo si faceva... Allora, che bello che è stato. Raffaele, questo film, no? Dopo ieri sera abbiamo un po' parlato seduti su due sedie nel foglio del teatro. È impregnato. Io insieme notavo per il pubblico questo cambiamento continuo, queste colpi di scena, e da metà in poi il film prende proprio il volo, praticamente, sia come ritmo, sia come interesse di storia. E poi c'è un finale con un, per me, un grande, un grande, ma grande, direi con poco, attore, che si chiama Giancarlo Giannini, il quale ha dato una spazzata, proprio quando lo appare e fa questa scena sua, è importante, si rimane bocca aperta, veramente, perché poi c'ha esperienza. Proprio un po' va rombrando, così, nelle pause, nei movimenti, nel... sì, sì, come no, no, ma no, totalmente, cioè, ma è il prego... è il mio mestiere. È il mio mestiere. Per dire buongiorno. Non si dice buongiorno, come se diciamo nel nome di... no, voi attori. Loro, lo fai... Ah, che c'è? Buongiorno. È vero? Non lo lascio cadere, senza me solo. Grazie a voi. Claudia, è un piacere ritrovarti in un ruolo, forse uno dei ruoli più stravaganti di tutta la tua storia. Quanto ti sei divertita? Perché vedendo il film arriva a chi lo guarda questa sensazione. Beh, la cosa importante ovviamente è anche il copione. A me è piaciuto moltissimo. E poi sono gli attori anche. Perché se non mi piacciono gli attori io non faccio il film. Lo sappiamo, lo sappiamo. C'è un passato anche di questo. Il copione è gattolo. Giaccarlo, adesso rispondi o alla Marlon Brando o alla Giaccarlo. Sono le attrici di film, non lo fai neanche tu. D'altronde, qual è la più bella immagine di donna vista al cinema del passato? Bellissima. Gattopante. La tradizione di Claudia Cardinale. E non si può. Noi non l'abbiamo mai fatto noi insieme, stiamo incontrati, conosciuti. Dicevo a lei che avevo una bellissima fotografia a New York, che ci fecero insieme. Io ho incorniciato, pensavo. E finalmente ho avuto la... No, ho incorniciato. Non lo metto. Ci sono anch'io sulla fotografia. E finalmente abbiamo così fatto questa... Io perlomeno faccio un'apparizione finale, che è un grande colpo di scena, come si dice al Gino. Un colpo di scena, un nodo drammatico straordinario. Tanto per parlare un po' di tecnica cinematografica. Vabbè, e devo dire che, come ha detto Claudia, ho letto la sceneggiatura, dico, questa è una sceneggiatura pazza. Forse il regista è pazzo per lui, infatti è vero. Sicuramente. E poi con Raffaele. Noi, credo che abbiamo fatto, ma non ci siamo mai incontrati in un film dove è passato qualcosa insieme. Però, perlomeno incontrato. No, no, perlomeno c'è una giapposizione più nuova. Perlomeno, prima di Perlomeno. Perlomeno, perlomeno. No, forse aveva un anno. Quindi ero il bambino che metteva il piede sul tubo per iniziare tra le cose dei lunieri. Era quello? No, era quello che metteva la banana mentre fanno cadere. e da lì nacque, è meglio vedere la banana prima o dopo la caduta?